Stiamo cercando con tutta la nostra forza questa benedetta vittoria anche per sbloccarci mentalmente e che possa essere quella scintilla che ci farebbe intraprendere un percorso diverso. Le prestazioni poi non bastano, servono anche punti che danno autostima, consapevolezza, tranquillità e soprattutto farebbero pesare meno quel benedetto pallone che in questo momento in certe situazioni pesa più del dovuto. Per quanto riguarda il Teramo, penso che troverete lo stesso Teramo in quanto intensità e voglia di fare la partita. La Viterbeso è una squadra estremamente competitiva, ricca di talento, ha qualità tecniche, ha fisicità. Conosco molto bene l'allenatore, so quanto è professionale, professionista e maniacale nel preparare le partite. È una grande squadra, non dobbiamo farci abbagliare dalla classifica, perché è la classifica di inizio stagione, ma è una squadra costruita per stare a vertici del campionato. Quindi sappiamo di dover affrontare una squadra molto forte e dobbiamo giocare bene per limitare le tantissime individualità che hanno a disposizione.